Nome? Manuelo Presti. Soprannome? Manu. Chi te l'ha dato? Gli amici. In che ruolo giochi? Attacco. Numero di maglia? 18. Perché il 18? Ma l'ho scelto da piccolo e mi è sempre rimasto. A quanti anni hai cominciato ad andare sul biaccio? 4. Età, peso o altezza? 26, chili 85, altezza 82. Perché l'hockey sul biaccio? Perché il mio tio giocava, i miei mi portavano a vedere la partita e quindi mi sono appassionato. Il tuo sportivo preferito? Il mio sportivo preferito? Non mi viene in mente. La tua prima partita in Serie A? Quest'anno. Il tuo primo gol? Sempre quest'anno col golzano. Un tuo difetto? Che son lento. Il tuo pregio? Che lotto. La penalità che ti fischiano più spesso? Tretenuta. Quella che subisci più spesso? Tretenuta di nuovo. Cosa fai prima della partita? Mi concentro. Hai un gesto scaramantico prima della partita? La scaramanzia inizia da dopo pranzo, quindi se sto adesso a raccontarle tutte ci metterò tanto. Ah ok, è lunga. Quando segni? A chi dedichi il gol? A nessuno. Non lo so, esulto e basta. Cosa fai dopo la partita? Sei vinto? Sono contento. E se hai perso? Eh, abbastanza deluso. Dipende come è andata, come abbiamo perso. Cosa fai nella vita oltre all'hockey? Studio e lavoro. Cosa vorresti fare da grande? Il commercialista. Il tuo compagno di squadra più simpatico? Michael. Quello più bello? Michael. Quello con più stoppa? Paolino. Quello con più tecnica? Quello con più tecnica? Ah, vai avanti. Quello che non si tira mai indietro? Quello che non si tira mai indietro? Paolino. Quello più veloce? Lutz. La squadra avversaria con cui vuoi vincere a tutti i costi? Vabbè, ovvio il Bolzano. Con quale giocatore del passato avresti voluto giocare almeno una partita? Congrezzi. Cosa provi a indossare la maglia del Milano? È un onore. Vincere o partecipare? Vincere. Sei uno che ci mette la faccia? Assolutamente. Allora, dia ai nostri tifosi perché dovrebbero fare l'abbonamento per la prossima stagione dell'Hockey Milano Rosso Blu. Abbonatevi, noi mettiamo la faccia e voi il tifo. Grazie mille. Grazie a voi.